A fine marzo la dismissione della centrale Enel Spezzina, che sembrava avviata, è stata bloccata a causa della crisi energetica mondiale innescata dalla guerra in Ucraina. Rimane avvolto nell'incertezza il futuro dei 140 lavoratori, in particolare dei 20 a cui è stato chiesto di trasferirsi a Civitavecchia? Sì, intanto siamo in una situazione ancora di stand-by, perché di fatto noi non abbiamo più avuto incontri con la direzione dell'Enel e nel frattempo 20 lavoratori sono stati trasferiti nella centrale di Civitavecchia, con grande disagio per questi lavoratori. È evidente che c'è bisogno di capire come Enel intende investire sulla centrale di Spezia, ovviamente tutti abbiamo applaudito alla dismissione del carbone, questo non vuol dire che non ci sia bisogno comunque per un paese come il nostro di produrre energia, perché siamo un paese altamente energivoro, abbiamo bisogno assolutamente che Enel ci dica su quale tecnologie ha intenzione di investire. Noi avevamo dato anche il nostro assenso in fase transitoria alla transizione appunto anche con un gruppo a turbogas, questo ovviamente in tempi definiti e propedeutici poi a un investimento invece sulle nuove fonti, dall'idrogeno alle tutte le altre rinnovabili. Quindi aspettiamo che ci sia questo incontro per capire assolutamente che intenzioni ha Enel di investimenti sul nostro territorio. Spezia sta sempre di più diventando una città votata al turismo, avere un sito che bruci carbone o bruci il gas è incompatibile con questo nuovo asset di sviluppo della città? Come dicevo prima, nulla toglie dal fatto che comunque noi abbiamo bisogno di energia, anche se vogliamo sviluppare il turismo abbiamo bisogno di avere delle bollette accessibili, la dico così, sia per i nostri lavoratori, i nostri concittadini ma sia anche per le imprese ai vari livelli perché quello che sta avvenendo, come stiamo vista anche la situazione geopolitica purtroppo che stiamo vivendo, è un'escalation sempre più alta di questi costi energetici e quindi abbiamo bisogno di soluzioni e le soluzioni a mio giudizio ci sono perché le tecnologie nuove ci sono, quando si parla anche di turbogas non è certo il carbone, tanto per essere chiari e però è evidente che il traguardo deve essere sull'energia green, sull'energia pulita, per fare questo però c'è bisogno di forti investimenti.